Campetti dello IACP. All'indomani dell'annunciato accordo tra amministrazione e istituto autonomo case popolari che prevede la concessione ad uso gratuito dell'area di Rione Fratelli Bandiera al comune di Sciacca, intervengono i consiglieri Simone Di Paola e Giuseppe Ambrogio. Perché fermarsi solo a quel campetto e non estendere anche ad altri spazi di questo genere la stessa possibilità? Da anni affermano Di Paola e Ambrogio in una città dove le strutture sportive non sono quantitativamente e qualitativamente adeguate alle esigenze dei cittadini, chiediamo che questi campetti possano diventare luogo di aggregazione per i giovani, affermano i due consiglieri, tra questi quello della perriera di Via Siena. Perché fermarsi a metà del percorso quando il progetto potrebbe essere più ampio e significativo? Si chiedono Di Paola e Ambrogio. Consiglieri che invitano l'amministrazione a valutare e verificare la possibilità che tutti i campetti della città di proprietà dell'OIACP possano essere concessi al Comune per poi affidarli a comitati di quartiere o associazioni sportive. Perché no? risponde a stretto giro di posta l'assessore allo sport Davide Emmi, a cui abbiamo chiesto un commento rispetto a questa ipotesi. È un percorso che si può ovviamente intraprendere trovando le somme necessarie alla sistemazione degli altri campetti di proprietà dell'OIACP che non sono attualmente in buone condizioni o comunque chiedendone prima la sistemazione. Si tratta di un'ipotesi tutt'altro che impercorribile dunque per l'assessore allo sport che intanto, dopo la concessione a titolo gratuito del campetto di Rione Fratelli Bandiera, lavora alla convenzione che andrà stipulata tra Comune di Sciacca ed Istituto Autonomo Case Popolari. Convenzione che una volta esiglata consentirà poi di coinvolgere le associazioni sportive e i comitati di quartiere per individuare quale possa essere la migliore destinazione di questa struttura e a chi dovrà essere assegnata.